Io credo che Lucca si meriti di più, che abbia bisogno di un'amministrazione comunale, che ha una visione strategica sul suo futuro. Credo che Lucca debba tornare a questa conquista a livello nazionale e internazionale, perché Lucca è un gioiello per la scelvedia, serve una maggiore attenzione e più decoro per quanto riguarda le fazioni della periferia, i paesi e tutto quello che concerne anche una visione che riguarda la sicurezza, quindi un'area diventata nuova, un impegno di persone che hanno sempre avuto un lavoro, che non hanno testa di partito e che vogliono mettersi veramente disinteressatamente al servizio della città, perché la città e il territorio sono stati veramente abbandonati da troppo tempo e quindi pensiamo che soltanto una squadra competente di persone che hanno una professionalità specifica per il ruolo che vanno a ricoprire, possano salvare Lucca da un declino misurato. E' per questo che vi chiediamo di dare un ruolo.